I consiglieri comunali di Campobasso hanno trovato l'unanimità su un percorso sollecitato da un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, modificato e votato da tutti, dopo due interruzioni del Consiglio straordinario, convocato ad hoc per discutere sulla futura destinazione dell'area dell'ex stadio Romagnoli. L'area diventerà di fatto un parco urbano, restituendola quasi del tutto ai cittadini. Dunque il referendum che si chiedeva con le simboliche occupazioni dei giorni scorsi viene meno e ci si potrà invece concentrare sui modi e i tempi realizzativi, trovando convergenze istituzionali e studiando la possibilità di nuovi accordi di programma, come quello demandato al sindaco Antonio Battista che dovrà lavorare per trovare una sintonia con il presidente Frattura. Questo è necessario anche perché la prevista eventuale costruzione della nuova sede della Regione Morise si potrà fare anche se il Consiglio Comunale di Campobasso ha stabilito l'intervento non potrà superare i gradoni della vecchia curva sud. Dunque il desiderio di tanti cittadini si potrà realizzare. Il parco urbano non solo questa volta è possibile, ma trova la convinzione di tutti i gruppi politici in Consiglio che in una delle rare volte da sempre dimostrano di aver agito per il bene della città. Naturalmente il Comune dovrà trovare un'area adeguata a realizzare un nuovo campo di gioco per metterlo a disposizione delle tante società sportive che hanno usato i romagnoli e che comunque continueranno ad usarlo fino al momento in cui il progetto parco può partire. A tal riguardo sarà riposizionata la rete che delimita il campo di gioco, rete che era stata tolta per la messa di Papa Francesco. Intanto ci piace registrare il buon debutto della nuova amministrazione. Maggioranze d'opposizione hanno dato prova di utilità al bene comune, accettando e condividendo le opinioni della cittadinanza. Dovrebbe essere sempre così. Grazie a tutti.